lo so lo so è il 6 gennaio arrivano i remaggi sui cammelli voi ne vedete due dite ma come mai sono tre perché uno ha deciso di fare il giro dalla salerno reggio calabria ha trovato un po di traffico ma arriverà pure lui siamo a sorrento siamo nel villaggio di natale buona epifania a tutti come potete vedere fra pochissimo alle mie spalle i cammelli faranno una parata meravigliosa sul corso principale qui a sorrento ed è sicuramente un evento unico e speciale avere degli animali di questa bellezza e di questa rarità qui proprio a sorrento e allora andiamo anche a scoprire insieme a francesco del circo altea orfei come si fa a gestire anche un animale così bello e così prezioso ciao benvenuto grazie buonasera darci tanto da mangiare cosa mangia un cammello fieno frutta mangimi un po di tutto e prima ho visto delle arance tipo ok fanno una dieta anche equilibrata fanno anche una dieta equilibrata ok voi siete qui in campagna con il circo giusto dove di preciso a cercola ok via l'europa fino al 9 gennaio stiamo lì perfetto e state avendo una buona risposta di pubblico i bambini amano sempre il circo in magia certo certo i bambini amano il circo con gli animali ecco una cosa simpaticissima è che i nomi di questi due cammelli sono saddam e ci da te vedi ecco quindi anche questa è una cosa che abbiamo scoperto non sapevo che i cammelli nascessero anche in attività perfetto benissimo e allora insomma qui a sorrento fra pochissimo andremo a vedere questa parata andremo a scoprire anche l'effetto che avrà sulla gente di sorrento vedere passeggiare questi meravigliosi cammelli e quindi ci vediamo tra pochissimo andiamo a scoprire questi cammelli e questa loro passeggiata nel frattempo vi ricordiamo il circo altea orfei fino al 9 gennaio a cercola non mancate